ciao a tutti dopo un bel po che non faccio video di action figure della marvel riprendiamo un attimino perché ora l'ho trascurata veramente tanto e di cosa parliamo parliamo di le due versioni capital america oltre quella che ho fatto il video del capitale america la seconda guerra mondiale con la moto abbiamo la versione aggiornata diciamo ai film dei giorni nostri quindi avengers and game e tutti quelli che sono stati fatti prima e poi abbiamo quello preso dal film telefilm the falcon winter soldier spero di averlo detto bene e parliamo di sam wilson prima da falco è diventato capitale america e poi non un'altra ancora però ve lo faccio vedere forse domani che dire beh la confezione bellissima niente da dire un po impolverata perché poverina è veramente un tanto tanto tempo che l'ho presa messa lì era un po trascurata abbiamo due personaggi con le versioni sia col casco lui in questo caso ha queste specie di occhiali sia senza niente da poter sostituire non lo so io penso che nascerò quelle col casco nonostante che le fa le facce sono fatte veramente veramente bene come nel film però mi piacciono più queste qua hanno entrambi i loro scudi che sembrano uguali ma non sono proprio uguali 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 aveva questa specie di zainetto ma non credo che ci siano le ali c'è solo lo zainetto sapete lui ha quelle ali enormi bellissime e qua c'è la storia dei due personaggi che ora non credo che vi interessa più di tanto niente cosa facciamo procediamo l'apriamo e vediamo sono fatti dentro eccole qua eccole qua allora allora vediamo qua falcon non ha delle mani pensili quindi ha delle mani aperte o completamente chiuse ora vediamo il suo scudo che dovrebbe essere questo come come lo impugna secondo me con queste mani qua vabbè però vedremo come vi dicevo il volto è stupendo ragazzi qua abbiamo Steve Roger bellissimi entrambi i volti e lui ha solo due mani queste qua una completamente chiusa una semi aperta ora proviamo a girare vediamo dietro se si capisce ma non lo so è uno scudo vedremo dai mettiamoli fuori dalla confezione vediamo eccole qua qui il problema sussiste sempre che parliamo sempre di ste cavolo di piedi di caviglie dove loro difficili riescono a stare in piedi poi il resto sono molto belle però per farle stare in piedi non è semplice proprio per niente eccole qua come potete vedere le action figure sono alte uguali quindi gli scudi sono identici cambia solo che quello di falcon ha queste specie di righine nella parte grigia e quell'altro anche nella stella e quell'altro è un po' più liscio tutto lì io avrei fatto completamente uguale anche perché parliamo che lo scudo è lo stesso che capita in america adatto a lui nel tragitto ha preso un altro supereroe diciamo supereroe che poi vedremo perché anche quello però non ma non lo so vabbè allora vabbè l'altezza sappiamo adesso prendiamo il millimetro centimetro qui e la vediamo subito comunque sono tutti alti uguali parliamo di 16 cm anzi no 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 forse uno un po' leggermente più piccolo dell'altro ve lo dico subito allora sì questo è di mezzo centimetro più piccolo questo è mezzo centimetro più grosso non mi chiedete perché non lo so però sono fatti così vi avvicino un action figure alla volta le altre teste non le tirano anche fuori se riesco a mettere a fuoco eccola qua guardate com'è bella bellissima anche la divisa ora lui qui che ci va il suo ecco fatto fate come è bella anche lui col pizzetto non è facile purtroppo farlo stare in piedi proprio per niente e quando lo mettete in vetrina cadono ora in questo caso in questo caso capitale america c'è stato e lui rimane un po' storto vabbè va bene uguale capitale america c'è stato e lui rimane un po' storto purtroppo non ci si può fare niente ci sono questi cosiddetti qui da volendo comprare aggiungere però dato che non ho veramente pochi vorrei tenerli per altre action figure che mi servono comunque insomma sono belli ecco lui peccato che non c'ha le sue ali perché sennò sarebbe stato veramente anche se però era un problema farcelo stare in vetrina ed eccoli qua ora gli faccio fare un video sperando che non cadano anzi prima lo mettiamo sugli scudi eccoli qua sono belli eh sono belli entrambi io li ho un po' trascurati però sono proprio belli e sono belli adesso è più 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 bene non potevo mettere anche lei la nostra Capitan Carter e così ci sono tutti e tre ora lei rimane un po' più alta perché ha la base sotto però insomma sono lì ragazzi che aggiungere questo brevissimo video finisce qui perché non ho tanto da aggiungere sono action figure molto belle a me piacciono devono piacere ripeto sono fatte bene sono di plastica completamente sono tutte snodate l'unica pecca sono i piedi che vanno un po' a scatto sono un po' rigidi e per farli stare in piedi non è semplice cosa risolvibile con quelle pedane lì che ho già fatto il video quindi niente non ho altro da aggiungere spero che questo video vi sia piaciuto se è piaciuto lasciatemi un like seguitemi che uscirà un altro video e altri video tanti altri video e e niente ciao e al prossimo video ciao ciao ciao